Bella a tutti ragazzi, qua è Supervale e oggi sono qua per provare una nuova serie dove tenterò di fare il biglietto da visita, quello dell'Oster diciamo che un po' ho iniziato a prenderlo e questa è la prima partita dove l'ho preso però non sono riuscita a tirarlo allora parliamo un po' della serie, come ho già detto tenterò di prendere l'Oster già ho il secondo episodio, intanto provo a portare il primo un po' per farvi capire com'è la serie allora, illustriamo la classe, se non sbaglio la classe era un N94 con silenziatore con calcio regolabile e con impugnatura qua adesso andiamo un po' avanti qua giocavo molto più sulla difensiva diciamo che un po' camperato perché ho capito subito che questa era la partita dove potevo fare qualcosa andiamo un po' avanti ok la serie non inizia da qua mi sembra però vi voglio far vedere un po' tutto e ringrazio il mio amico che è qua per tenermi in registratore e niente qua ho avuto giocavo in gruppo e con i miei cugini che non hanno un canale youtube e quindi non lo ringrazio potevo fare molto di più però la lobby era forte poi guardate qua come camperavano col pompa l'ho fregato mentre stava fregaticando ecco mi sembra che la serie è iniziata ok ah no qua mi ammazza quello col pompa questo sa un po' la telecamera proprio qua proprio un po' di più perfetto qua i miei alliati hanno già preso l'allstar ecco qua lancio il c4 e ci do il coso a canterare eeehm ok ah mi sembra che la prendo alfa ok la prendo però dico che possiamo andare avanti qui nel secondo round ecco qua come potete vedere mi vado molto veloce perché qui si vede delle kill però voglio andare al secondo round perché è lì che ho preso l'allstar eeehm niente qua prendo un po' avanti prendo un po' di assist poi vabbè la motica è normale poi qua niente ecco qua la serie è iniziata infatti qui nel secondo round ah no perché poi sono ok adesso è il secondo round il secondo round ve lo mostrerò tutto bene senza mandare veloce ecco ecco come potete vedere qua è iniziata la mia serie allora adesso inizierò il secondo round e ve lo mostrerò lentamente come ho già detto già è in arrivo il secondo round cioè il secondo episodio scusate eeeh eeeh devo solo registrarlo eeeh eeeh a breve avremo l'hdppvr eeeh eeeh ecco qua faccio la prima e prendo l'agr adesso prenderò l'agr come potete vedere gioco molto sulla difensiva per prendere l'agr perchè quando prendi l'agr è fatta prendi anche eeeh eeeh ecco qua ho visto che quello è morto mi sono un po' abbassato poi comunque avevo un gruppo fantastico che ringrazio mio cugino ecco vediamo qua qua faccio le kill ne faccio un bel po' qua prenderò alfa ed ecco la gr che lancerò dalla finestra ecco qua ho cominciato a giocare veramente sulla difensiva eeeh ecco qua un po' camperavo come potete vedere aspettavo che facevano la prima mossa ai nemici ecco ecco qua mi è passata davanti una fila di nemici eeeh ecco lastest certo come scontato come minimo qua ci mancava solo due minuti di nuovo ecco qua stavo per morire però per fortuna non sono morto qua stavamo per perdere A stavo anche per morire uccisione a gr eeeh niente poi qua prenderò subito il lodstar ecco lui il lodstar ce l'argo davanti agli occhi non avrei non avrei immaginato come avrei sclerato se non sarei morto tipo a eccolo il lodstar grazie all'assist qua faccio una kill solo che non faccio in tempo a tirarlo perchè abbiamo vinto niente ragazzi spero che la serie vi piace penso la chiamerò rude sull'odstar niente qua il video è finito bella